Buongiorno carissimi, bentrovati in questo giovedì della trentatresima settimana del tempo ordinario. La prima lettura ci porta nel primo libro dei Maccabei, siamo a capitolo 2 del versetto 15 al versetto 29 e abbiamo la figura di Mattatia. In quei giorni i messaggeri del re, incaricati di costringere la all'apostasia, vennero nella città di Modin per indurre a offrire sacrifici. Molti israeliti andavano con loro, invece Mattatia e i suoi figli si raccolsero in disparte. C'è una lotta a cui parteciparono anche i Maccabei, ma c'è da dire che Mattatia si pone dinanzi a tutti anche da solo. Dice infatti il versetto 19, Mattatia stesso, anche se tutti i popoli sono sotto il dominio del re, lo ascoltassero, ognuno abbandonasse la religione dei propri padri e volessero tutti aderire alle sue richieste, io e i miei figli e i miei fratelli cammineremo nell'alleanza dei nostri padri. Non abbandonare per nulla la fede. Quindi Mattatia è fervente nel suo credo, tant'è vero che poi organizza anche quello che sarà una battaglia per poter difendere, poter vivere anche serenamente la fede in Dio. Infatti il versetto 29 ascoltiamo, allora molti che ricercavano la giustizia e il diritto scesero nel deserto per stabilirvi sì. Ecco allora che questa forza di Mattatia e ancora di più il coraggio di essere pure testimone, danno a noi sì la possibilità di comprendere come se questo personaggio ha difeso la sua fete fino a combattere. Nel brano del Vangelo di oggi, siamo al capitolo 19 del versetto 41 del versetto 44 del Vangelo di Luca, Gesù quando fu vicino a Gerusalemme alla vista della città pianse su di essa dicendo se avessi compreso anche tu in questo giorno quello che porta alla pace, ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi, per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assiederanno e ti stringeranno da ogni parte. Distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Dall'altra parte c'è proprio l'infedeltà, lo scialacquare in pratica della propria vita senza avere un punto fermo, senza un combattimento anche interiore che porta anche a salvezza, anche a difendere alcuni parole. Pensiamo un po', noi lottiamo per chi o per che cosa? Siamo innamorati tanto della fede da difenderla con denti stretti? Siamo invece innamorati delle nostre famiglie e pertanto le giustifichiamo sempre? Scendiamo a compromessi per dei propri interessi? O perché andiamo ricercando la volontà di Dio? Beh, oggi siamo chiamati un pochettino a verificarci. Se Mattatia è stato in grado di difendere la fede, qui nel brano del Vangelo invece quella fede si è persa perché si è dato scolto ad altro. Non si è compreso il giorno in cui si è stati visitati dal Signore che continuamente passa nella nostra vita. Che il Signore ci aiuti ad avere una verifica sincera della nostra esistenza. Un abbraccio fraterno a ciascuno di voi, buona e santa giornata. Ci vediamo domani per il nostro appuntamento.